Diciamo che c'è una grandissima notizia perché oggi il Ministero ha emanato il decreto con cui viene autorizzata la Cassa Integrazione straordinaria per 60 lavoratori della manufatta, 60 famiglie che erano rimaste per circa 12 mesi senza alcuna protezione sociale, a cui finalmente oggi viene ridata dignità e viene ridato quel minimo di tutela economica sociale fondamentale. È una notizia bellissima perché 60 persone, 60 lavoratori che rischiavano di rimanere in mezzo ad una strada oggi finalmente ottengono un giusto riconoscimento. E quindi credo che la notizia di oggi e il decreto emanato dal Governo di autorizzazione della Cassa Integrazione straordinaria sia una notizia importante e positiva per queste 60 famiglie e per questi 60 lavoratori.